Twist, ci trovi a Cava dei Tirreni in via Marcello Garzia 13. Cavesa e Nocerina potrà fare il tutto esaurito domani pomeriggio al Simonetta Lamberti per una gara decisiva. Oltre 4.000 spettatori che abbiano tutti in comune il requisito di risiedere a Cava dei Tirreni. Solo a chi rispettasse questa condizione poteva essere venduto il biglietto, come da ordinanza del prefetto. Non ci saranno dunque i tifosi della Nocerina costretti a soffrire a distanza per una gara determinante anche per l'esito del campionato della loro squadra. Il fischio d'inizio della tenzone sarà alle ore 15. Negli anni 2000 succedeva poche volte che l'ultima giornata del campionato potesse ancora essere determinante per un obiettivo, per il bianco-blu. E vincendo la partita, la Cavese raggiungerebbe la quota dei 69 punti, che le darebbe la possibilità di prolungare il campionato allo spareggio se dovesse vincere anche il Brindisi. La promozione in C domani si giocherà infatti su due campi, il Piccirillo di Santa Maria Capuavetere per Gladiator Brindisi e il Simonetta Salamberti per Cavese e Nocerina. Cavese e Brindisi sono in lotta per il primo posto, Gladiator e Nocerina per la salvezza, senza i play-out. La probabile formazione della Cavese dovrebbe essere composta da Colombo, Rossi e Maffei, Aliperta, Altobello e Magri, Bacio Terracino, Cuomo, Foggia, Banegas e Palma. Squalificato d'amore, potrebbero essere disponibili per Troise, Basile e Bezon, anche se non è detto che i due possano essere della gara. Arbitro Maxim Frassiniak della sezione AIA di Gallarate, i suoi assistenti Russo di Michelino e De Luca di Merano.